Il nuovo corso di laurea magistrale, il lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non autosufficienza, nasce per offrire una specializzazione di lavoro sociale e preparare dunque assistenti sociali specialisti, operatori sociali e coordinatori e dirigenti dei servizi sociali. Con questo corso di laurea abbiamo voluto attenzionare dei temi innovativi, ancora poco diffusi in termini di formazione sul panorama nazionale e attraverso la struttura blended del percorso vogliamo favorire la conciliazione dell'attività di studio con l'attività lavorativa nei servizi. Se volete saperne di più vi invito a consultare il sito e vi aspettiamo nel nuovo campus Monpiano di Brescia.